Ufficio Scolastico Regionale e INAIL hanno siglato un accordo per realizzare un percorso di attività di alternanza scuola-lavoro. Ci racconta tutto Maria Elena Mele. Con la formazione e sicurezza sul lavoro, tre mondi che iniziano a dialogare tra di loro e per questo sono più vicini. Grazie anche al protocollo siglato tra l'Ufficio Scolastico e l'INAIL regionali. Quella tra i due enti è un'intesa triennale che consente l'alternanza scuola-lavoro agli studenti Emiliano Romagnoli. L'accordo prevede l'opportunità per 80 ragazzi di svolgere 600 ore complessive, 200 per i liceali e 400 per i professionali in percorsi che avranno una durata di circa 4 settimane. Da gennaio a maggio 2017 gli alunni, anziché recarsi in classe, seguiranno il loro percorso didattico in azienda o in ufficio a seconda dell'indirizzo scolastico intrapreso. È un servizio che stiamo facendo, lo facciamo noi, lo fanno i nostri uffici territoriali a livello provinciale. Le scuole stanno a loro volta servendosi in queste intese e anche acquisendo ulteriori intese a livello locale più ridotte. Il tema dell'alternanza scuola-lavoro sta crescendo nella cultura della scuola di Emiliano Romagna. A farla da padrone Bologna con 30 studenti seguita da Modena, Parma, Fulice Sene e Reggio Emilia e con il protocollo gli enti vogliono esaltare il ruolo educativo della scuola nell'ambito del più generale compito di formazione. La scuola, ha spiegato Mario Longo, direttore Inel dell'Emilia Romagna, deve essere un luogo di incontro tra cultura della conoscenza e del lavoro. Io sono convinto che la cultura della sicurezza deve nascere nei banchi di scuola, deve nascere insieme alle materie che normalmente si studiano a scuola. Bisogna studiare anche per quanto riguarda i motivi della sicurezza perché in realtà parlare sempre di feriti e morti non è bello. Ridurre questo numero bisogna farlo, zerarlo sarà sempre un nostro obiettivo. Grazie.